Misteriacomoni, prima uscita, una bella partita, un risultato netto, cosa ne pensi? Siamo partiti un po' rimaneggiati a causa delle squalifiche che si devono aspettare dall'altro giorno passato, però i ragazzi che sono scesi in campo si sono comportati veramente bene, è una buonissima prestazione, compensata dal risultato positivo, è quello che alla fine era importante, quindi sono tutti i suoi risultati. Bene, grazie. Diego Viscaro-Parrini, all'esordio in Coppa, tripletta, migliore in campo, è quello che ti aspettavi? Sinceramente di fare tripletta no, però l'obiettivo è sempre quello di vincere e far bene. Grazie ai miei compagni ho fatto il gol, ma l'importante, ripeto, era vincere e con vincere. Penso che stiamo andando molto molto bene e la storia giusta è questa. Grazie, grazie a te. Grazie mille.